Era andato via sbattendo la porta rompendo rapporti politici e personali con il suo leader in provincia di Salerno e Domondo Cirielli ed ora Alberico Gambino potrebbe ritrovarsi a dialogare di nuovo con il partito di Fratelli d'Italia ha infatti ricevuto la nomina di coordinatore provinciale di Direzione Italia direttamente dall'europarlamentare Raffaele Fitto fondatore di Direzione Italia Elemento Importante e che il partito di Fitto camminerà gomito a gomito con l'ex partito di Gambino Direzione Italia infatti federato con Fratelli d'Italia al cui leader Giorgia Meloni viene riconosciuta la leadership Resta infatti congelato il simbolo per le prossime scadenze elettorali di noi con l'Italia che non presenterà il suo simbolo alle europee Le aree culturali e politiche che vi erano confluite faranno riferimento ognuna alla componente europea nella quale si riconosco si leggeva in una nota inviata proprio ai vari rappresentanti chi è al gruppo dei conservatori nel Parlamento europeo di cui Raffaele Fitto è vicepresidente e a cui ha recentemente aderito anche Fratelli d'Italia chi invece al Partito Popolare Europeo al quale alcune componenti di noi con l'Italia sono iscritte con il simbolo del quale si presenteranno in Italia forze storiche del moderatismo italiano come Forza Italia o nuove aggregazioni da essa promosse Un ruolo politico di primo piano dunque per il consigliere regionale paganese in un momento storico delicato come quello attuale quando c'è da scegliere strategie e programmi per le scadenze elettorali in primis le provinciali di febbraio e poi le comunali e le europee di primavera in città importanti della provincia salernitana